Sino al 6 gennaio sarà visitabile presso la galleria H Esposizione Sita in via Veneto alla Spezia la mostra fotografica del medico torinese Eugenio Volpi dal titolo Zoos una serie di scatti di curiosi animaletti del marchio Tiger attori buffi ma con un'anima delicata sulle riflessioni, sugli ideali e sulle ricreazioni di un grande fotografo con lobby di aiutare la gente Sono fotografie di animali di gomma che in realtà rappresentano il mio alter ego in situazioni per cui nella tua vita ogni tanto ti ritrovi gli animaletti possono rappresentare quello che pensi in tutte le maniere quello che ti viene da dentro e viene fuori e lo puoi rappresentare molto facilmente con gli animali anche colorati che possono rappresentare momenti gioiosi ma anche momenti un po' più pensierosi La mostra fotografica ha uno scopo benefico patrocinata dalla Lilt, la Lega Italiana a lotta ai tumori della Spezia alla quale sarà devoluto una parte dei ricavati del materiale presenti nell'esposizione Grazie anche all'apporto della catena Tiger che ha permesso la realizzazione tecnica delle opere stesse perché i supporti che sono stati fatti per la mostra sono stati sovvenzionati appunto da questa società Eugenio Volpi alle spalle, già un'ampia esperienza fotografica a partire dagli anni 80 fra i vari lavori ricordiamo esposizioni con i giovani artisti di Torino, il paese dei balocchi Fondazione Italiana della Fotografia, Museo dell'Automobile di Torino, sei personaggi in cerca di casa nel 2006 ha curato un'esposizione dei paesaggi di Las Vegas mentre nel 2007 ha prodotto mostra e calendario luci da un non artista Infine nel 2012 ha dato vita al suo progetto più difficile Streaming Blood, esposto nell'ottobre al Museo Medeolia della Spezia ed accettato ed esposto come libro al Festival Internazionale di Fotografia Le Rencontre d'Arls nel 2013